Buonasera, bentrovati ad un nuovo spazio dedicato al telegiornale. I carabinieri di Treviso hanno arrestato i cinque banditi che ieri sera hanno rapinato la filiale di Ponzano Veneto di un'azienda molto nota, la Tupperware. I cinque, quattro siciliani e un campano sono stati bloccati nel veneziano, intercettati e fermati un'ora dopo il colpo, recuperato il bottino di circa 20 mila euro. Recuperate anche le pistole usate per l'assalto, assalto che è stato compiuto intorno alle 22, un colpo pianificato evidentemente molto veloce. Imponente l'operazione dei carabinieri per la caccia ai banditi, si è alzato un elicottero che è riuscito ad individuare la macchina con i rapinatori. Il veicolo è stato illuminato dal faro dell'elicottero dei militari fino a quando sono arrivate da terra le pattuglie che hanno bloccato i malviventi. Un uomo dell'apparente età di 50-55 anni è riuscito a mettere a segno due colpi ai danni di donne anziane raggirate nella loro casa a Trieste, facendosi aprire la porta esibendo un tesserino e dichiarando di essere un impiegato dell'Inps nel primo caso e un dipendente della Guardia di Finanza nel secondo. L'uomo è riuscito a raggirare le donne e a derubarle di denaro con tanti oggetti preziosi che tenevano in casa. La questura invita alla vigilanza e a chiamare il 113 in casi sospetti. Parliamo adesso di Federica, la pornostar scomparsa da Vicenza mesi fa. Da giorni le forze dell'ordine stanno lavorando per il recupero di una cassa che sarebbe stata gettata nel lago di Garda dall'uomo sul quale sono concentrati tutti i sospetti per la scomparsa della donna. Allora sentiamo la situazione. I genitori avevano denunciato la sua scomparsa il 5 marzo scorso. Federica Giacomini, la pornostar 43enne nota come Ginevra Olander, non aveva più lasciato traccia di sé, scomparsa completamente. La donna abitava a Vicenza ma di lei nessuno sapeva più nulla. In seguito alle ricerche era stata trovata l'auto di Federica. Era sporca di sangue e questo aveva fatto subito temere il peggio. Le attenzioni degli inquirenti si erano concentrate sull'ex compagno 55enne Bresciano Franco Mossoni. L'uomo arrestato nel 1978 per l'omicidio della moglie era inchiuso per alcuni mesi in un ospedale psichiatrico. Il 14 febbraio scorso era stato fermato all'ospedale San Bortolo di Vicenza dove, armato di pistola, aveva seminato il panico. Su di lui tutti i sospetti. La svolta è arrivata nella mattinata di martedì. Dalle acque del lago di Garda è stata ripescata una cassa con il corpo di Federica. Il ritrovo è avvenuto a Castelletto di Brenzone, in provincia di Verona. Le indagini sono coordinate dalla squadra mobile di Vicenza con il supporto dei colleghi di Verona. La cassa non è stata trovata casualmente, ma era da alcuni giorni che il lago veniva scandagliato. Un testimone avrebbe riferito di aver visto Franco Mossoni buttare una cassa dentro a quel lago. Ancora la cronaca dalla provincia di Padova, brutale rapina a Monselice, nella casa della proprietaria di un noto vivaio. La donna era sola quando ha sentito dei fortissimi colpi provenienti dalla porta di ingresso. Ha cercato il cellulare per chiedere aiuto, ma forse colta dal terrore non è riuscita a trovarlo. In pochi secondi in casa sono entrati tre uomini. L'hanno minacciata, l'hanno strattonata e hanno rovistato in casa alla ricerca di preziosi e denaro. Volevano la cassaforte, ma lei continuava a ripetere che in casa non c'era. I banditi se la sono filata soltanto dopo che la signora ha continuato a ripetere che il sistema di sicurezza aveva allertato i carabinieri in maniera automatica. Solo quando è rimasta sola è riuscita a chiedere aiuto. Sul posto sono giunti i militari che hanno avviato le ricerche. Potrebbe trattarsi di una banda dell'Est. Continuano le indagini sul colpo notturno avvenuto due notti fa al centro commerciale Il Parco, nell'Alta Padovana, obiettivo la gioielleria dalla quale sono stati rubati preziosi e denaro contante per 150 mila euro. I ladri si sono calati abilmente dal tetto dell'edificio, una modalità che abbiamo già visto varie volte nel Padovano quando sono stati presi di mira grossi centri. Si tratterebbe di una banda di esperti che prima conosce nel dettaglio la struttura e poi attua il piano. I banditi quando si calano all'interno di queste attività riescono a manomettere tutti gli impianti di sicurezza e ad agire con il massimo silenzio, ad agire in maniera indisturbata. In seguito ad una perquisizione in asse dei carabinieri di Padova, delegati dalla Procura della Repubblica di Milano, hanno arrestato a San Giovanni Lupatoto nel Veronese un 28enne bodybuilder trovato in possesso di sostanze dopanti. L'uomo che ha partecipato a diverse manifestazioni sportive deteneva nella propria casa 280 fiale di farmaci a effetto dopante per un valore di 20 mila euro. A Padova, venerdì, si svolgerà una manifestazione importantissima, un'esercitazione di pubblica calamità si chiama Galileo 2014. L'evento è stato presentato oggi in prefettura a Padova dal prefetto e dal comandante delle forze di difesa interregionale nord. Venerdì 20 giugno a Padova si svolgerà la prima grande esercitazione di pubblica calamità, un'operazione chiamata Galileo 2014, voluta dalla prefettura e dal comando forze di difesa interregionale nord. L'evento si pone obiettivi importanti e fondamentali per la sicurezza del territorio dei cittadini, ovvero verificare sul campo la funzionalità della sinergia tra le varie forze operanti in caso di emergenze. Galileo 2014 è stato presentato in prefettura a Padova dal prefetto e dal comandante delle forze di difesa interregionale nord, reparti dell'esercito italiano e personale di tutte le componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile, normalmente operanti in questo tipo di emergenze. Impegnati anche la regione, la provincia, il comune di Padova, i volontari di protezione civile della Croce Rossa, Servizio Sanitario Nazionale, la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco. Sì, è una delle prime grosse attività di addestramento per scopi di pubblica calamità che inizia l'esercito italiano in questo triennio che vedrà via via sempre più incrementata la componente militare fino ad arrivare all'esercitazione Ode Scalti 2016 in cui l'esercito italiano con l'esercito sbissero si metteranno insieme e faranno una grossa attività di pubblica calamità. L'esercitazione verrà realizzata all'interno dell'aeroporto militare Allegri di Padova e lungo il fiume Bacchiglione. Varie le situazioni simulate dal ritrovamento di ordigni potenzialmente esplosivi alla rottura degli argini con conseguente alluvione e grave pericolo per i residenti. L'esercitazione sarà un'occasione per verificare tutte le procedure di allertamento e intervento. Sentiamo il prefetto di Padova, dottoressa Patrizia Impresa. In questa realtà devo dire che senza creare allarmismi perché non è la nostra attenzione, non è il nostro compito ma sono eventi che possono facilmente capitare. Vicenza ha dato una prova ottima per la defibrillazione dell'ordigno biblico tenendo però in scacco la città. Noi speriamo di mettere in campo un sistema operativo che garantisca il risultato ma che consenta anche di avere una vivibilità per i cittadini di quella giornata in relazione a quell'evento. La prima grande esercitazione che si svolge a Padova, in campo più di 800 unità che si muoveranno sotto la direzione del centro di coordinamento allestito per la gestione dell'emergenza. Nessun ricordo per i fascisti di ieri, nessuna pace per quelli di oggi. È la scritta apparsa stamane in via Zabarella a Padova a poche ore dalla commemorazione per l'uccisione di Giuseppe Mazzola e Graziano Girallucci i due militanti dell'MSI che proprio in quella strada furono uccisi il 17 giugno del 1974 dalle Brigate Rosse. del fatto confermato dalla Digos ha dato notizie a Casa Pound Italia parlando di un gesto inqualificabile. Con una delibera approvata dalla seduta odierna della Giunta, la Regione Veneto si è costituita parte offesa nell'inchiesta sui lavori del Mose. Se l'ha annunciato oggi il Presidente Zaia spiegando che ora l'Avvocatura regionale procederà all'acquisizione degli atti per vedere se costituirsi parte civile. Penso, ha sottolineato Zaia, che il comportamento dell'amministrazione rispetto ai provvedimenti di sospensione sia specchiato. Aspetta a noi con questa delibera avviare un percorso a tutela dei Veneti più che della Regione per i danni patiti non solo a livello di immagine. L'ente ha spiegato Zaia, qualora venisse acclarato il dolo, la colpa grave o responsabilità personali chiederà risarcimento dei danni a 360 gradi perché è inutile tirare la cinghia per finanziare le opere se i fondi venissero sottratti in questa maniera. E adesso parliamo di sanità. Una rivoluzione arriva nel mondo veneto, parliamo del pronto soccorso dove tra pochi mesi arriverà una nuova figura quella dello Stuart. Ne stanno preparando già 400. Sentiamo di che cosa dovrà occuparsi e come sarà il servizio nei confronti del cittadino. Ore d'attesa, risposte sgarbate e un senso di inadeguatezza. E' ciò che rimane molto spesso a molti cittadini che si rivolgono al pronto soccorso. Se la nostra sanità è un'eccellenza, anche la qualità del servizio deve essere adeguata e quando il paziente si trova al pronto soccorso deve stare sereno. Con questo scopo, dal 1 settembre, in tutti i pronto soccorso del Veneto entrerà in funzione la figura dello Stuart. In tutto saranno 400 persone, figure professionali dipendenti. Gli Stuart, come disposto dalla Giunta regionale del Veneto, dovranno assistere le persone nelle sale d'attesa e costituire di fatto un collegamento informativo tra l'area di cura e quella d'attesa riguardo ai tempi per ottenere l'assistenza collegati al codice di triage assegnato all'arrivo, ai motivi di un'eventuale attesa prolungata, alle condizioni di parenti o amici sui quali si sta intervenendo. Un cammino di civiltà, osserva il presidente della regione, dicendo anche «Ho fortemente voluto questo perché alle riconosciute grandi capacità di cura dell'intero sistema si affianchino anche servizi che chiamo di umanizzazione del rapporto con la gente». Da Treviso due incendi sono scoppiati questa notte impegnando per alcune ore i Vigili del Fuoco. Uno dei due è scoppiato al club Casablanca di Montebelluna intorno all'una di notte. Sono dovuti intervenire sei mezzi con 15 Vigili del Fuoco che hanno lavorato fino alle 5 del mattino. L'altro rogo si è sviluppato all'interno di un'abitazione di Casale dove i pompieri hanno lavorato dalle 3 alle 5. I Vigili si sono occupati, oltre che a spegnere il fuoco, anche di ricoverare insieme al 118 le quattro vittime che sono rimaste intossicate. Un colpo in pieno giorno e con l'attività aperta è stato effettuato ieri mattina nella zona commerciale di Mestre. Obiettivo è il magazzino della profumeria Douglas. I ladri due si scoprirà poi dai filmati di video sorveglianza del circuito interno. Sono arrivati con un furgone. Il mezzo era stato rubato giorni prima in Lombardia. Gli sconosciuti hanno aperto la saracinesca forzandola con un attrezzo apposito e hanno agito in 5 minuti facendo razzia di profumi e prodotti di bellezza presenti all'interno. Quando il colpo è stato scoperto i due ormai si erano dileguati. Crisi e tagli ai budget personali. Gli italiani si stanno anche abituando a rinunciare a molte abitudini ma dicono no ai tagli sui cellulari. Sentiamo. La crisi costringe gli italiani a tagliare molte spese personali. Si risparmia su vacanze, beni di largo consumo, alimentari, ma non si taglia sulla tecnologia. In particolare sembra che la maggior parte non rinuncia ad avere il cellulare di ultima generazione e così ogni volta che esce un nuovo modello di smartphone ci sono code acquisti che in tempo di crisi fanno riflettere. Anche i costi telefonici non sono da meno. Che si tratti di abbonamenti o carte prepagate, gli italiani spendono. Da un'indagine di Facile.it emerge che la spesa familiare annua per i telefoni tocca in media i 607 euro. Da considerare anche che le compagnie nell'ultimo anno si stanno adeguando con un calo dei prezzi inimmaginabile fino a qualche tempo fa. E oggi tutti sono molto attenti ad osservare le tariffe ed eventualmente cambiare operatore. Essere più accorto alle tariffe, secondo un identikit pubblicato in questi giorni, è l'uomo con età media di 40 anni e residente al nord. Una donna rumena di 20 anni è stata notata dal personale di sicurezza di un centro commerciale dopo aver sottratto capi di abbigliamento. Li aveva abilmente nascosti in una scatola che era stata schermata all'interno in alluminio. Un lavoro di precisione eseguito per evitare i sistemi di allarme. Una volta notata, il personale ha chiamato gli agenti del 113 che sono giunti sul posto. Il bottino in valore di 2.000 euro è stato tutto recuperato. La donna è stata associata al carcere femminile di Venezia in attesa del processo per direttissima. Adesso parliamo di vacanze. Una volta con la chiusura delle scuole era un classico la preparazione delle valigie, la scelta delle località dove trascorrere un po' di relax. Adesso lo scenario è completamente cambiato. Pochissimi gli italiani che partiranno, ma ci sarà un boom invece degli arrivi nel nostro paese, arrivi di stranieri. Sentiamo allora quali sono le prospettive per l'estate 2014. Pochi gli italiani che nell'estate 2014 andranno in vacanza, ma per contro abbiamo un dato positivo. molti gli stranieri che sceglieranno le località del nostro territorio come meta turistica. Secondo una stima dell'osservatorio Feder Turismo Pragma, in base al trend registrato negli ultimi anni e ai segnali positivi dei primi mesi del 2014, tra giugno e agosto arriveranno 26 milioni di persone. Le previsioni sono state fatte anche con una stima della spesa che complessivamente potrebbe superare i 13 miliardi di euro. I cittadini dei paesi stranieri amano l'Italia, che è in grado di proporre un'offerta turistica attrattiva, che punta su proposte di prodotti flessibili, dinamici e innovativi. Negative invece le prospettive per le vacanze dei nostri connazionali. Secondo l'Osservatorio Nazionale Feder Consumatori partirà solo il 31% della popolazione. La motivazione è da ricondurre sempre al basso reddito disponibile, l'incertezza in termini di occupazione e il debole potere d'acquisto delle famiglie che non facilitano il turismo domestico, che viene definito bene, non di prima necessità. Adesso uno sguardo alla situazione meteo. Un'area di bassa pressione in spostamento dal Mediterraneo verso la penisola balcanica mantiene tratti di instabilità pomeridiana sulle zone di montagna. Altrove avremo una prevalenza di schiarite e una certa stabilità. Venerdì il passaggio di una veloce saccatura porterà un po' di instabilità anche sulle zone pianeggianti. A fine settimana però troveremo un tempo più stabile e soleggiato. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.